Bella raga, qui è un altro video di Fabi e... No, in una posizione molto scomoda Sì, in questo video vi illustreremo come recutare Xin Bellatrix e Byron Io sono in una contundione che non ti dico E muovi, e tira giù la testa Allora, per cui vi illustreremo dove recutare Xin Ci vor... Non si vede la faccia Ci vor... Non mi vediate da noi Vabbè L'abbiamo già trovato Allora, adesso... Non so dove si trova io, perché non me lo ricordo Allora, vi direi che nel posto in cui avete già giocato Durante la storia Sì, ma sarà la Foxhuler Si vede la mia lampada, fico Sì, anche l'and'altro Ah, vabbè Si vede la mia faccia? No Sì, perché è talmente brutto Quindi, andiamo dove lui sa e io non so A Fukuoka Andiamo a Fukuoka nella Foxhuler Si dice così, Foxhuler Sì Bella Ah, beh, l'ho trovato Guarda C'è già Allora Xin si troverà sotto questi alberi E qua, va Ok, basta Non lo vediamo perché Non lo vediamo Infatti Se non lo troverete Dovrete entrare e uscire Finché non lo trovate Ah, mi fumava già il collo Questa ti faccio perdere un po' di punti carismi Chi se ne frega Vabbè E poi Adesso passeremo a Bellatrix Sempre nella Genesis Esatto Non c'è male il collo Sì Io la Bellax non ho mai provato a recutarla Quindi non so neanche dove si trova Ma che culo Che culo ragazzi Guarda, non so Ok Vi direi che è sulla strada del Monte Fuji Perfetto Non preoccupatevi Perché molti dicono È il Monte Fuji Che difficoltà trovarlo No, non è difficile Non è difficile Ci sono solo quattro posti Dove può essere Ah, comunque vi vogliamo Rinnovare il nostro concorso Che faremo quando avremo otto iscritti O quindici, mi piace Ma saremo otto iscritti Meglio Anche se non siete i nostri iscritti Però non so se potete fare il video Oddio, ecco Un'altra sfida Io odio le sfide 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 Ecco, ho visto i testoni Ecco Andate a prendervi le testate Scusate per questa battuta Trovo subida Io Il suo collo che mi si sta spaccando E tirassi giù Tanto chi se ne frega Si vede la sua buzza faccia Non parla lui Mister E' son bello Aspettate Aspettate Dorsi collo Da parte di Matteo Vabbè cammino così Quando c'è il buio Togli quel dito dallo schermo Scusa Scusa Ok Ok Stiamo andando Si che ti vede guarda No, non ti si vede Si vede solo la mia lampada Ah, ok Ah che cazzo dicevi che mi vedevi E' prima Adesso non mi vedi Ok, allora Se volete trovare altri che vi dire del monte Fuji Che non sarà Bellatrix Ecco Grazie per la interruzione Grazie per la interruzione Bella Spirale Immerta Bip Ok, allora Se non volete Cercare Bellatrix Un posto E' questo qui sopra Vabbè andando qua Se non lo trovate Andate avanti indietro Invece Bellatrix Dove si trova Bellatrix? Diccelo Sono impazienti Qui vicino Qua ormai è arrivata E' finita la musica Dove è finita la musica Sì, cazzo Ho sentito il volume Bravo Ho sentito il volume Va a cagare Bip Chi se ne prega Chi se ne prega Andiamo avanti E si troverà Qui vicino A questo Giocattolaio Oh, punti passioni Vabbè, si troverà lì Se non c'è Come in questo caso Fate avanti indietro Ecco, non facciamo avanti indietro Perché Togli quel dito Guarda che non si vede Sì, che si vede Andiamo molto Lentamente Ok Se c'è l'ultimo Che è Byron Finalmente Mi metto Cicolo Bravo Un'altra sfida Ragazzi Un'altra Bruttissima sfida Io vi odio Spide Vi odio Vi odio Vi odio Ho fatto una cosa Molto brutta Con la telecamera Ho trovato Un posto Dove non mi fanno Brava Io mi sto facendo male Al ginocchio Quindi spicciati Sì Non posso correre Non può correre Perché ci sono io davanti E se ci mette Come già è successo Due volte Ci vede il suo dito Il suo bruttissimo dito Sì perché Sono tutto brutto Sì infatti Per me Sì è tutto brutto Perché Non sono che Un'altra sfida Infatti Che schifo Sì è Mi sta venendo Un mal di schiena È quella che mi veniva Ma Comunque se volete Partecipare al concorso Ci dovete scrivere Gli iscritti Avranno una specie Di bonus Iniziale Perché sono iscritti E C'è Guarderemo Con attenzione Loro Vincenzo Li daremo Già Del punto C'era Scusate Per il momento Brusco Che sto per fare Però mi fa male Il ginocchio Cioè faremo Dei favoritismi A quelli iscritti A noi Quindi Con corso Vincerete Qualche cosa Qualche cosa Tipo Non lo so Tipo Ah Chi vincerà Li faremo Un video Per lui Ma che Pubbliciteremo Su canale Anche E poi In un video E poi Li faremo Vedere solo Lui In un video Quindi diciamo Dove trovarli Gazzari O quelli che vuole Cioè ci scrive Che personaggio Vuole Ok Andiamo in autobus Scusate Scusate per il mio braccio Ma dovevo scrivere E' molto scomodo Fare video su DS Scusala Tanto Scusate Per i Per i Diti Diti Dito Mi Pollice Matteo Capisci No Che il mio Pollice No Ok Allora Cos'è Zeus Dove ho recluso Non c'è Che bravo Eh Ah si Ok Se non lo trovate subito Dovete fare cerca ancora E mica Sono coglione E mica Sono scemi No Non lo ho reclusato No Perché Sì No Veramente Non lo sono Devo No Non lo Non lo Ho reclusato Mi sto Noi Eccolo Si chiamerà Afrodite Vabbè Si chiede la faggia Da coglione Che c'è E' vicino all'acqua Ma io penso Allora Qui dirà Come appena detto Il mio compare Che si trova Vicino all'acqua E tutti vedranno Al fiume Invece no E' alla torre Allora Non sappiamo Se c'è subito Però In qualunque caso Vi diremo Dove si trova Ok Non c'è Però Non c'è Però vi diciamo Dove si trova Ah Comunque Se avete visto Questo video Prima Vi diciamo Di vedere Nel nostro video Come reclutare Nakata Idetoshi Quasi tre Allora Si troverà Lì dove c'è Mark Comunque Adesso Il video E' praticamente Finito Però Aspetta Prima di finire Diciamo Di vedere Il nostro video I nostri video Il primo Si chiama Come reclutare Nakata Idetoshi Non so Come si chiama Il cognome Idetoshi E poi Di vedere Soprattutto Questo Dove Dosteremo Dove si trovano Xin Bellatrix E E poi Ne faremo Un altro Su Dove trovare Le squadre Football Frontier Dove trovare Gli amichevoli Le football Frontier Intende Le squadre Delle Prima In Zoom Eleven Che si possono Sfidare Anche in Questo In Zoom Eleven E poi E poi No Sì E poi Anche Le sfide Degli allenatori Gli amichevoli Extra Comunque Ok Ciao Ciao